Regione, nuova giunta e reazioni. Il presidente Oliverio parla di svolta epocale, spazio al mondo accademico calabrese e politica all'angolo, critiche dall'opposizione e malpancismi diffusi nella maggioranza. I cinque segretari del PD a sostegno del governatore. Narcotraffico internazionale, il grande blitz, 44 arresti, 6 quintali di cocaina sequestrati e una raffineria artigianale scoperta in una frazione di spinninga. Blitz in grande stile dei carabinieri del ROS grazie a due infiltrati e al superpentito Domenico Trimboli. Bimba è nata morta, tutti assolti, la decisione del GUP di Catanzaro per i quattro medici del pugliese accusati dell'omicidio colposo della nascitura, soffocata dal liquido amniotico, il dolore della madre alla lettura del dispositivo. Il traffico delle auto di lusso, tre persone in manette nell'ambito dell'operazione denominata Grande Fratello, coordinata dalla procura della Mezzia Terme, individuata dalla Polstrada, la banda che rubava auto tra il Lametino e il Vibonese. Unica al tempo di bilanci, il rettore Gino Miro Clecrisci traccia il rin di conto del suo primo anno di attività, evidenziate le difficoltà legate alla precarietà del contesto economico-sociale. Buonasera ai telespettatori della C, la nuova giunta regionale è in cima alla nostra scaletta. Nella serata di ieri il presidente Mario Oliveri ha ufficializzato la sua nuova squadra. Ecco chi sono i neoassessori e le loro deleghe. Un'aggiunta nuova di Zecca, la politica viene messa letteralmente in un angolino, qualche esponente d'area, nulla di più. Il New Deal parte dal ritorno al passato, dal ritorno ai professori. Ben quattro dei sette nuovi assessori sono docenti universitari, delega pesante per Antonio Viscomi, uomo di punta del governatore, il professore di diritto del lavoro alla Magna Grecia, direttore del Dipartimento della Presidenza, viene nominato vicepresidente della regione e dovrà occuparsi anche di bilancio e programmazione. Nella squadra Federica Roccisano, ricercatrice all'Università per Stranieri di Reggio Calabria, va a lei il pacchetto strategico di deleghe al lavoro e al welfare lasciate da Carlo Guccione. Franco Rossi, docente dell'Unical, dove è ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica, è già assessore comunale a Rende e ottiene la pesante nomina alla pianificazione territoriale. Nel novero degli assessori pure Antonella Rizzo, dirigente amministrativo destinata all'ambiente. Si occuperà più in generale di economia la dirigente regionale Carmela Barbalace. Il nuovo assessore alle infrastrutture è invece Roberto Musmano, ordinario di ricerca operativa all'Università della Calabria. Ed un altro professore, Francesco Russo, ordinario anche egli ma alla Mediterranea di Reggio, ottiene la delega al porto di Gioia Tauro e più in generale alla logistica e al sistema portuale regionale. Ma quali sono i retroscena della nomina di questo esecutivo che nasce in una particolare convincenza storica segnata dall'inchiesta sui rimborsi ai gruppi consigliari della passata legislatura? E poi chi sono i delusi? Scopriamolo nel servizio realizzato da Tonino Fortuna. Rinnovamento epocale o commissariamento della regione da parte del governo? Intorno a questo doppio interrogativo ruota la formazione della nuova giunta nominata dal presidente Mario Oliverio che segna indubbiamente una rottura netta con il recente passato. Non mancano tuttavia gli esclusi eccellenti ai mal di pancia fuori e dentro il Consiglio regionale. Dall'esecutivo vengono estromessi tra gli altri Gianni Speranza e Maria Francesca Corigliano entrambi primi dei non eletti nelle rispettive formazioni. La sintesi emersa dal confronto serrato tra il governatore e i vertici nazionali del PD rischia di alzare un vero e proprio polverone dentro l'astronave. Sul piede di guerra tutti i principali esponenti della lista che faceva riferimento al presidente. Orlandino Greco, Vincenzo Pasqua e Franco Sergio avevano avvertito peraltro da giorni il pericolo e non avevano esitato a ribadire che questo modus operandi non li avrebbe trovati d'accordo. Resta da capire ora se qualcuno di loro verrà coinvolto nel ruolo di consigliere delegato una volta attuato lo statuto. In ballo deleghe importanti ancora da assegnare dall'agricoltura al turismo corrucciati anche Vincenzo Ciconte e Carlo Guccione per un'esclusione che riterrebbero ingiusta. E poi ci sono le rinunce dei prefetti. Su tutti il gran rifiuto di Luigi De Sena e di Raffaele Cannizzaro che hanno complicato terribilmente i piani del governatore. Per non parlare del passo indietro di Consuelo Nave e della professoressa Carmela Salazar tra i saggi per le riforme istituzionali del defunto governo Letta. E stamani il protocollo delle dimissioni del presidente del Consiglio regionale, Tonino Scalzo, suo probabile successore, è Mimmo Battaglia. E mentre nella maggioranza sono diffusi i malpancismi per le scelte operate dal governatore Oliverio, il Partito Democratico, con una nota congiunta dei suoi segretari provinciali, si schiera a sostegno del presidente e della sua nuova giunta. A fronte del deflagrare della questione giudiziaria aperta dall'inchiesta sulle spese dei gruppi regionali erano necessarie risposte immediate all'altezza. Queste risposte sono arrivate. Così i cinque segretari provinciali del Partito Democratico calabrese, Bruno, Pantisano, Guglielmelli, Mirabello e Romeo, commentano con una nota unitaria la composizione della nuova giunta regionale varata dal presidente Oliverio sull'onda del ciclone Rimborsopoli alla luce delle dimissioni del presidente del Consiglio regionale Scalzo, oltre che del dietrofronte degli assessori Guccione e Ciconte. Un'aggiunta del tutto rinnovata, dicono i segretari DEM, fatta ricca del contributo della società civile calabrese e del mondo dell'università e della ricerca, equilibrata e innovata nella presenza di genere, forte di competenze ed esperienze maturate nelle professioni e nella vita pubblica. Un segnale di vicinanza, quello del PD, al governatore e alla sua giunta. Quindi un ringraziamento non formale, dicono i cinque segretari, al segretario regionale Ernesto Magorno per l'impegno e la sensibilità dimostrate in questa vicenda. Toni distensivi dai democratici in uno scenario segnato dai mailpancismi diffusi in tutta la maggioranza. Cambiamo pagina, passiamo alla cronaca. Maxioperazione su scala internazionale del Rosso di Catanzaro. 44 arresti per disarticolare una organizzazione dedita al narcotraffico. Faceva riferimento alla potente casata undranghetista dei Mancuso. Gli inquirenti hanno tenuto stamani una conferenza stampa. Per noi c'era Gabriella Passariello. Due agenti di polizia giudiziaria che agivano sotto copertura in trattativa con l'organizzazione criminale e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Domenico Trimboli, che fungeva da intermediario nelle operazioni di importazione e tentata importazione della droga, hanno consentito agli uomini del Rosso coadiuvati dai carabinieri del reparto operativo di Vibo Valencia di smantellare un traffico internazionale di stupefacenti, in particolare di cocaina, e di eseguire, su richiesta della DDA di Catanzaro, con un'ordinanza firmata dal GIP Piero Scuteri, 44 arresti per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, a carico di un'organizzazione transnazionale collegata alla cosca Mancuso di Limbadi e al sequestro di oltre 600 kg di cocaina. I particolari dell'operazione Nome in Codice Overing sono stati resi noti in conferenza stampa dal procuratore capo Vincenzo Antonio Lombardo, dall'aggiunto Giovanni Bombardieri, dagli uomini del Rosso del capoluogo e dai carabinieri di Vibo Valencia. Le indagini, che sono iniziate nel 2005 e passate dalle mani del PM Salvatore Curcio al collega Camillo Falvo, hanno consentito di individuare i flussi intercontinentali del narcotraffico e, in collaborazione con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, di identificare le componenti colombiane, venezuelane e italiane del sodalizio. L'operazione Overing ha svelato dunque l'esistenza di una complessa organizzazione capace di dirottare da un angolo all'altro della terra quintali e quintali di cocaina purissima. Una storia fatta di narcotrafficanti, ma anche di infiltrati e raffinerie clandestine. Ancora Gabriella Passagliello. I due infiltrati, uno del Rosso e l'altro dei carabinieri, hanno consentito di identificare sia gli emissari del cartello colombiano venuti in Italia per definire le operazioni di trasporto della droga destinata al porto di Livorno ed occultata all'interno di rotoli di asfalto impermeabilizzante, che gli esponenti di vertice della cosca Mancuso di Limbadi, interessati a verificare le modalità di importazione del narcotraffico. Svelata nell'operazione Overing anche l'esistenza di un ulteriore canale di importazione assicurato dal broker Domenico Trimboli, che in Medellin fungeva da raccordo tra il gruppo fornitore e l'organizzazione criminale. Smantellato un laboratorio artigianale per l'estrazione del narcotraffico dai tessuti, la struttura era stata realizzata all'interno di un fabbricato rurale in contrada a Panaia, nel comune di Spilinga. Nell'ordinanza viene documentato anche il tentativo da parte del sodalizio di importare una tonnellata di cocaina colombiana avvalendosi di una società di gioiosa ionica, dove la droga veniva nascosta in travi di legno. E adesso ascoltiamo le parole del procuratore di Catanzaro, Vincenzo Antonio Lombardo, ai nostri microfoni a margine della conferenza stampa di stamattina. Un traffico internazionale che ha disvelato l'esistenza di una base logistica che muove dal territorio di Vibbo, che si estende al nord Italia, che si estende al versante ionico reggino, che coinvolge tale trimbole che è un intermediario tra i gruppi italiani calabresi e i castelli colombiani. È un'operazione che dura da anni, che ha comportato il sequestro in Sud America di 500 kg di cocaina e il sequestro in Italia di 45 kg di cocaina con una purezza pari all'82%. Sostanzialmente abbiamo una complessa convergenza di organizzazioni criminali. Una calabrese, poi abbiamo una cellula albanese che ha una sua base logistica a Fiano e poi abbiamo una serie di soggetti interessati all'importazione che operano in Calabria e fuori dalla Calabria. Ed ecco cosa ha dichiarato a margine della conferenza stampa il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Vibbo, Valencia, Daniele Scardecchia. Colonello Scardecchia, la frazione Panaia di Spilinga nel Vibonese vera e propria raffineria. Si erano impadroniti di questo casolare per adibirlo a raffinerie. La cosa però non è sfuggita ai carabinieri del comando provinciale, i quali hanno monitorato gli spostamenti di uno degli odierni arrestati per poi segnalarlo ai reparti speciali della sezione anticrimine che poi hanno sviluppato le indagini concluse oggi con questo successo importante. L'importanza dei soggetti calabresi in questa vicenda? Non dico niente di nuovo se affermo che i soggetti calabresi appartenenti alla malavita si pongono come interlocutori privilegiati dei colombiani. Il successo di oggi però lascia capire che sono arrivati tempi duri per tutti. Calabria è sempre più vicina alla Colombia, al Venezuela, al Sud America e alla malavita sudamericana? Vicina in questo caso nel male, ma vorremmo che questi legami fossero interrotti. In questo momento di particolare soddisfazione per l'esito del lavoro effettuato mi preme ricordare il sacrificio di chi non c'è più il maresciallo capo Luca Panzironi in servizio al Ross Anticrimine di Genova. Sono le parole del sostituto procuratore generale di Catanzaro Salvatore Curcio titolare dell'indagine Overing. Panzironi morì a Genova in un tragico incidente durante un'attività di controllo svolto proprio nell'ambito dell'inchiesta sul narcotraffico. E adesso la cronaca giudiziaria. Sono stati assolti dal gruppo di Catanzaro i quattro medici imputati per la morte della piccola Beatrice. La nascitura soffocata dal liquido amniotico straziante il commento della madre. Sentite. Nessun falso, nessun omicidio colposo. Sono cadute le accuse a carico dei quattro camici bianchi imputati per la morte della piccola Beatrice nata morta soffocata da quel liquido amniotico che per me si l'aveva protetta e nutrita. Il gruppo del Tribunale di Catanzaro, Ebiga e il Mellace, ha assolto con formula piena perché il fatto non sussiste i medici Maria Talarico, Ines Pileggi, lo specializzando Enrico Detrana e l'ostetrica Irene Mancini, giudicati con rito abbreviato. Il giudice per le udienze preliminari ha accolto la richiesta di assoluzione dei legali difensori, l'avvocato Enzo Ioppoli e Vanda Bitonte e del PM Prontera, anche se con una formulazione diversa. Il PM aveva chiesto la soluzione per insufficienza di prove. Lo stesso pubblico ministero, che in sede di udienza preliminare e corrito ordinario, aveva invocato il rinvio a giudizio per tutti. Straziante il commento della madre che ha seguito l'udienza, raggiunta telefonicamente. Mia figlia non è morta. Le perizie che dicevano che è morta soffocata e che la morte della mia bambina poteva essere evitata con un parto cesario non erano vere. Tre arresti per furti d'auto tra il Vibonese e il Lametino sono stati eseguiti dalla Polstrada di Vibo Valencia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Lamezia Terme. Il servizio. La polizia stradale di Vibo Valencia ha sgominato una banda dedita al furto di auto. In manette sono finiti Simone Catanzaro, 33 anni, di Curinga, Francesco e Damiano Berlingeri, di 37 e 26 anni, di etnia Rom e domiciliati Lamezia Terme. I tre, posti agli arresti domiciliari, si sarebbero resti responsabili del furto di un'auto o vettura avvenuto a marzo scorso nella città della Piana. Scattata la denuncia, gli agenti della Polstrada, diretti da Pasquale Ciocca, grazie al GPS, intercettarono allo svincolo di Rosarno l'auto con l'arresto in flagranza di un 32enne di Rosarno. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica del furto e risalire agli arrestati di oggi. Per eludere i controlli, la banda aveva sostituito la targa della vettura rubata con una simile sia per modello che per colore. Secondo gli inquirenti, il furto della vettura sarebbe stato commissionato da un uomo che avrebbe voluto sostituirla con una in buono stato, ad inchiodare i ladri le telecamere di videosorveglianza poste in una stazione di servizio di Pizzo, sulla statale 18, dove è avvenuto il cambio di targa. I tre dovranno rispondere di furto e riciclaggio d'auto. I dettagli dell'operazione denominata Grande Fratello sono stati illustrati dal comandante Pasquale Ciocca che ha sottolineato come il fenomeno dei furti in provincia di Vibo Valencia sia in preoccupante ascesa. Nel 2014 sono spariti 200 veicoli, mentre dall'inizio dell'anno ad oggi sono state rubate 95 autovetture. E adesso ascoltiamo le parole del comandante provinciale della pulizia stradale di Vibo Valencia, Pasquale Ciocca. I sistemi di videosorveglianza presenti sulle strade hanno aiutato molto in questa circostanza. Individuato e segnalato il furto, individuato il periodo temporale, la visione delle immagini e l'individuazione dei frame giusti per poter capire e poter individuare i responsabili del furto ci hanno portato a capire la dinamica e a restare i responsabili. Ognuno di loro si dedicava sia alla sottrazione materiale delle auto, sia a quella di taroccare, nel caso specifico sostituendo la targa, in altri casi sostituendo altri dati identificativi. Sono persone con precedenti specifici professionisti del settore. Abbiamo riscontri positivi, abbiamo avuto riscontri positivi, materiale trovato nell'ambito delle perquisizioni, le indagini sono in atto e sicuramente si potrà capire e allargare anche il giro criminale che è stato parzialmente individuato quest'oggi. Operazione denominata Grande Fratello. Grande Fratello perché nessuno sfugge all'occhio delle telecamere. L'intuizione è stata quella di capire il periodo temporale durante il quale si è svolto il reato e così riconoscere, individuare, identificare le persone proprio dalle immagini. Torniamo ora ad occuparci delle condizioni in cui sono costretti a vivere purtroppo i testimoni di giustizia. Tra questi l'ex trivellatore Salvatore Barbagallo, a sostegno del quale intervengono i parlamentari del Movimento 5 Stelle, l'associazione Antonino Caponnetto. Vediamo. Il labirinto per accedere al fondo anti-racket, il muro di gomma delle istituzioni e i reiterati appelli di chi ha avuto fiducia in esse, le lungaggini giudiziarie. Nella storia di Salvatore Barbagallo, 65 anni, ex trivellatore divenuto testimone di giustizia sin dal 2007, c'è questo e anche altro. È una storia raccontata dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, Parentela, Nesci, Bernini e Duva, che si rivolgono con una loro interrogazione al ministro della giustizia Orlando. Chiedono risposte per Barbagallo, a cui gli ostruzionismi della burocrazia impediscono, spiegano, l'accesso ai fondi a cui ha diritto per uscire dalla fossa dell'indigenza e per rifarsi una nuova vita, diversa da quella che l'andrangheta gli ha distrutto. Con Barbagallo si schiera apertamente anche Elvio Di Cesare, leader dell'associazione Antonino Caponnetto. Ma è possibile, dice Di Cesare, che ogni testimone di giustizia serio debba subire questo calvario ed aspettare anni per avere quanto la legge prescrive? E conclude. Ancora debbono cominciare i processi. Intanto da imprenditore che era, egli sta subendo la fame insieme alla sua famiglia e deve andare a mangiare alla Caritas. E adesso gli altri fatti di cronaca della giornata. Il PM della DDA di Catanzaro, Camillo Falvo, ha chiesto la condanna per sei persone imputate di tentata e estorsione aggravata dalle modalità mafiose ai danni del testimone di giustizia ed imprenditore Francesco Maria Vinci. Nel corso della requisitoria il Pubblico Ministero ha evidenziato come tutte le accuse siano state provate nel corso del processo. La condanna a 12 anni è stata chiesta per Eugenio Gentiluomo, di 61 anni, e Rocco De Maio, di 45 anni, entrambi di Gioia Tauro, otto anni per Massimo Patamia, di 45 anni, di Tauria Nova, sette anni e sei mesi per Domenico Pardea, Antonio Vacatello e Carlo Riso. Per tutti, infine, la richiesta di pagamento di una multa di 3.000 euro. La sentenza del Tribunale di Vibo Valencia è prevista per il prossimo 22 luglio. Beni riconducibili alla disponibilità di un imprenditore cosentino per un valore complessivo di circa 700.000 euro sono stati sequestrati dai finanzieri al termine di verifiche fiscali effettuate su delle società, tra cui la mancata presentazione della dichiarazione fiscale e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. A conclusione dell'ispezione effettuata dalle fiamme gialle è stato disposto il sequestro per equivalente dei beni direttamente riconducibili e l'imprenditore che hanno riguardato un intero complesso edilizio adibito a struttura turistica ed un terreno di circa 5 ettari. Un grosso incendio ha interessato un'azienda di Ciron Marina che produce materiale plastico. Le fiamme, innescate probabilmente in modo accidentale, hanno investito un capannone ed alcuni container con all'interno delle cassette sul posto da cui si è alzata una colonna di fumo nero i vigili del fuoco del distaccamento di Ciron Marina e quelli del comando di Crotone. Grazie all'intervento di un elicottero della protezione civile regionale è stato possibile evitare che le fiamme si propagassero le altre strutture. La squadra mobile e la Digos di Crotone hanno effettuato una serie di controlli e perquisizioni nel quartiere Acquabona nell'ambito del piano di azione Focus Drangheta che hanno portato all'arresto di 5 persone dalla denuncia di altre 7, tutte con l'accusa di furto. Gli arrestati, di età compresa tra i 68 e i 23 anni, si sarebbero allacciati abusivamente alla rete elettrica o avrebbero manomesso i contatori per alterare i consumi. I 7 denunciati, che hanno tra i 34 e gli 81 anni, avrebbero realizzato invece, secondo l'accusa, all'acce abusivi e alla conduttura idrica impossessandosi così di acqua senza pagarla. Per l'effettuazione dei controlli sono stati impiegati circa 100 agenti con l'ausilio anche di unità cinofile. E torniamo adesso ad occuparci della difficile situazione dei dipendenti dell'amministrazione provinciale di Vibo Valenzi in attesa dello sblocco di due mensilità da parte della Regione. Questa mattina un altro dipendente è stato colto da un malore, salvato da due poliziotti. Vediamo. Sono ore di attesa per i dipendenti della provincia di Vibo Valenzi da settimane sul tetto del Palazzo. In queste ore il Vice Presidente della Regione Calabria, Viscomi, dovrebbe annunciare lo sblocco di due mensilità delle 5 che avanzano i 370 lavoratori dell'ente indissesto. E nell'estenoante attesa un altro dipendente oggi è stato colto da malore. Al secondo piano del suo ufficio è stato rinvenuto privo di sensi da un suo collega. L'ambulanza era impegnata in un altro soccorso per cui due poliziotti che da giorni presidiano la sede di Via Bitonto dove in atto la plateale protesta hanno scortato l'auto che ha accompagnato l'uomo in ospedale. Il dipendente sotto osservazione allo Iazzolino. Le sue condizioni non destano preoccupazione. La notizia ha lasciato sgomenti i colleghi in lotta. Stamattina un altro collega è finito in ospedale pare per un attacco di angina e sarà ricoverato. Un altro collega che l'ha accompagnato ha avuto anche lui un altro malore e quindi adesso stiamo veramente cadendo come i soldatini di stagno. Un ad uno ci stanno eliminando in un altro modo. È ormai inaccettabile questa situazione. In mattinata l'arrivo di una delegazione di dipendenti della provincia di Crotone per manifestare solidarietà ai colleghi vibonesi. Noi riteniamo una condizione veramente vergognosa che i nostri colleghi comunque cittadini e servitori dello Stato si debbano trovare in questa condizione. Voltiamo pagina parliamo di mobilità e lavoro. A Reggio è in atto la grande corsa dell'amministrazione comunale targata a Falcomata per salvare dal fallimento Lata ma l'azienda municipale per il trasporto pubblico. Ce ne parla Francesco Creazzo. Toni trionfali dal comune di Reggio Palazzo San Giorgio avrebbe salvato l'ATAM l'azienda dei trasporti Regina naviga in cattive acque da anni a causa del mancato riconoscimento dei rimborsi da parte della regione e il 14 luglio proverà ad evitare il fallimento nell'ultima udienza davanti al tribunale. Oggi arriva invece la notizia tramite una nota dell'amministrazione Regina della delibera approvata all'unanimità in consiglio comunale che prevede la ricostituzione del capitale sociale con 500.000 euro diviso in 50 quote da 10.000 euro e l'azzeramento delle perdite residue per un importo di quasi 7 milioni di euro. L'amministrazione conferirà all'azienda anche due beni immobili che passeranno all'ATAM quello di Largo Botteghelle e il Foro Boario. Incontenibile l'entusiasmo del sindaco Giuseppe Falcomatà che parla di importantissimo risultato non solo per i cittadini ma anche per i lavoratori dell'azienda. Siamo a Cosenza abbattuta l'ultima baracca del campo Rom di Vagliolise si parte con la bonifica previste misure significative per impedire che venga rimesso in piedi da Cosenza appunto Elvira Madrigrano. Con la demolizione dell'ultima baracca si apre la fase della bonifica nel campo Rom sul fiume Crati. Le imponenti operazioni di trasloco delle famiglie Rom dal campo costruito abusivamente al campo di emergenza provvisorio di Vagliolise sono iniziate lo scorso 25 giugno. A distanza di tre settimane è stata sgomberata definitivamente l'area da sempre considerata pericolosa per l'incolumità delle persone e per l'igiene e la salute pubblica. Completata la demolizione totale delle baracche il comune ha immediatamente provveduto a realizzare gli impedimenti per nuove eventuali abitazioni abusive. A questo scopo sono stati creati uno scavo in trincea e un'argine di terra mentre attualmente è in corso la bonifica dell'intera zona che costeggia il Crati. Nel campo di emergenza provvisorio allestito dalla protezione civile si contano al momento 365 persone circa la metà di quelle presenti nel campo lungo il Crati ad andar via soprattutto i cittadini Rom che mal sopportano il sistema di controllo dell'attuale area di trasferimento. Da Cosenza ci trasferiamo ora alla mezzia terme dove i cittadini si sono visti recapitare la tassa sui rifiuti scaduta da oltre un mese. Il comune pretende la riscossione con Annessa Mora e scatta la polemica sugli scudi Forza Nuova e Movimento 5 Stelle. Non è passato nemmeno un mese dal suo insediamento ma per il sindaco Paolo Mascaro l'arrivo nelle cassette della posta dell'Atari l'ex tar su tassa sui rifiuti nonostante sia stata approvata dalla precedente amministrazione è diventata una grama a cui cercare di tenere testa. Ai cittadini Lametini è arrivata una richiesta di riscossione della tassa con proposta di raitaizzazione peccato che la prima rata fosse fissata il 31 maggio giorno delle elezioni e che sia arrivata a destinazione solamente pochi giorni fa. Questo implica anche che ai cittadini venga richiesto di pagare una mora per il ritardo con cui verseranno il dovuto. Polemi che stanno allora piovendo da ogni ordine politico i primi a manifestare la loro insofferenza sono stati militanti di forza nuova che hanno lasciato davanti ai cancelli del comune un cumulo di sacchi di spazzatura. Anche il Movimento 5 Stelle punta i piedi e si accanisce contro il nuovo soggetto riscuotitore ovvero la lamezza multiservizi affermando che per legge le amministrazioni possono delegare altri a riscuotere solo attingendo ad uno speciale albo a cui la società partecipata non sarebbe iscritta. Secondo i pentastellati di conseguenza gli inviti al pagamento sarebbero addirittura nulli. Per l'ex presidente di Calabrietica Pasqualino Rubberto invece la prima rata dovrebbe eseditare direttamente al 31 luglio e non costringere i cittadini a pagare sanzioni per ritardi che non gli competono. Incontro con la stampa del rettore dell'unica Lagino Mirocle Crisci per tracciare il bilancio del suo primo anno di attività evidenziate le difficoltà legate alla precarità del contesto economico sociale il servizio di Elvira Madrigrano Un'università che mostra indici di gradimento elevati e vanta risultati positivi sotto molteplici aspetti a partire dalla ricerca in molti casi posizionata su livelli di eccellenza un ateneo quello dell'unical che però risente pesantemente della precarietà del contesto economico sociale in cui opera e del sottofinanziamento ministeriale questi gli elementi evidenziati dal rettore Gino Mirocle Crisci che insieme ai prorettori Guerino D'Ignazio e Luigino Filice ha incontrato i giornalisti illustrando sia il posizionamento dell'ateneo a livello nazionale che i punti di forza delle numerose attività proposte dall'Università della Calabria abbiamo un contesto che è difficile il problema è che l'impressione che è fuori e nessuno si accorga di questo e veniamo considerati esattamente come l'Università di Padova l'Università la Statale di Milano l'Università di Pisa non siamo uguali noi non rifiutiamo le sfide anzi a me piace molto le sfide non vecchio sportivo a me la sfida mi piace ma è grave che in una corsa di 400 metri il nostro avversario il nostro avversario il nostro avversario il nostro avversario parlano 60, 70, 70, 80 metri di vantaggio non mi sembra giusto fateci partire tutti sulla stessa linea poi vediamo che ci arriva prima Tra gli eventi dell'estate calabrese più attesi c'è la Notte Bianca in programma Maida per il prossimo primo agosto si tratta di una manifestazione che ha registrato un grande successo delle precedenti edizioni torna dopo un inatteso anno di stop Tiziana Bagnato Sarà il Made in Maida il filo conduttore della terza edizione della Notte Bianca di Maida che si terrà nel piccolo centro del Catanzarese il primo agosto un'edizione dedicata alla valorizzazione delle aziende locali e di tutti i prodotti tipici del paese tre le aree tematiche che si snoderanno dal centro da Rione Le Croci al Castello Normanno di Piazza Roma la prima sarà quella dedicata all'enogastronomia la seconda invece vedrà l'allestimento di un borgo medievale con sbandieratori corte o storico balli dell'epoca e stand dedicati agli antichi mestieri la terza ed ultima zona tematica sarà quella dell'area concerti che avrà come ospite il grande cantautore Eugenio Bennato un servizio gratuito di navette permetterà poi di lasciare le auto nelle aree parcheggio e di arrivare nel centro storico la manifestazione nasce dalla sinergia tra l'amministrazione comunale di Maida il comitato organizzatore Notte Bianca e diverse associazioni e movimenti tutti uniti nel comune intento di valorizzare le radici del borgo e di renderlo appetibile ai turisti e a coloro che emigrati all'estero tornano solo nella stagione estiva E' tutto grazie per aver preferito la nostra informazione adesso come sempre vi lascio le notizie sportive grazie ancora e buonasera visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie che fa notizie che fa notizie